Benvenuti nella speciale classifica dei servizi ancillari più venduti del momento. Numero 1. Cibo e bevande. Come sempre il food and beverage è uno dei servizi ancillari più importanti. Però pensate che ultimamente l'importanza che ha assunto all'interno dell'attenzione degli albergatori è passata semplicemente dal 35% al 37%. Quindi sì, rimane un servizio molto importante per chi ce l'ha, ma chi non è dotato non sta molto probabilmente pensando di investirci. Ricordatevi però che il food è una grande tendenza. Pensate alle trasmissioni come Masterchef o alla grandissima quantità di altri programmi che riguardano il tema della cucina. Quindi non sottovalutate l'importanza del servizio food. Secondo classificato abbiamo tutti i servizi di upgrade. In questo caso stiamo parlando principalmente di upgrade di camera. Perciò avere una selezione di camera dalla Basic alla Superior alla Premium alla Junior Suite è diventato ormai un must. Sono pochissimi gli alberghi che non propongono delle categorie di camere differenziate. E questo diventerà sempre di più un elemento importante nella vendita di servizi complementari. Terzo classificato è il settore MICE. Anche qui un altro termine in inglese. Allora cerchiamo un attimo di capirci. Cosa intendiamo per MICE? Intendiamo tutto l'insieme dei servizi che sono collegati a aree meeting espositive che possono esserci all'interno di una struttura ricettiva. In questi ultimi anni è un settore di ricavi ancillari che ha attirato moltissimo l'attenzione degli albergatori. Pensate che si è passati da un 33% a un 45% dei nostri colleghi che pongono attenzione sui ricavi che derivano da questo settore. Ed è comunque molto interessante perché al settore dei meeting e dei convegni si lega tutta un'altra serie di consumi come ad esempio la banchettistica e le stesse camere per gli ospiti che partecipano agli eventi. Quarto e ultimo entrato in classifica sono i tour e le esperienze. Qui c'è stato un grande boom, una grande ascesa che sappiamo è stata promossa principalmente da siti come Airbnb che hanno portato le esperienze alla luce della ribalta e quindi l'attenzione degli albergatori verso le esperienze è molto elevata in questo momento. In realtà a mio avviso vedremo solo nei prossimi anni se questa è veramente una tendenza che avrà una grande importanza anche dal punto di vista dei ricavi dei servizi ancillari. Bene, la classifica è terminata. E tu all'interno di questa classifica quali sono i tuoi servizi ancillari preferiti?